Ben ritrovati ragazzi sul canale di Galloz, un nuovo episodio della nostra partita in Dayar Billions Siamo nella missione Lago Gelato e diciamo che abbiamo già pulito la mappa sostanzialmente Anche questa missione è stata un pochino più difficile all'inizio ma poi una volta impostata la difficoltà scende abbastanza velocemente Quindi diciamo che questa cosa ci dovrebbe lavorare un po' di più il gioco secondo me, cioè gli sviluppatori, per rendere il gioco più interessante Allora Perfetto, qua se ne sta un altro no? Sì, giù Perfetto, mi sto esponendo il più possibile come sto vedendo Ma questa non mi piace Perché potrebbe bloccare il passaggio, vorrei evitare cose di questo tipo Ok, ho finito il cibo Tu torna là Torniamo a pescare, qua siamo arrivati fino a qui Sono fatti apposta, sono molli di pesca congegnati per C'è la distanza esatta per renderli super efficienti Ecco, non posso mettere nessuno Ok Ok E' tornato pure il cibo Questo è un po' in qua Scegliamo giù anche da quella parte di qui Sì dai, piegiamo anche questa roccia Ok 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 Questa è altra roba, ho pensato di aver preso tutto Sì Almeno credo Ah, qua non vale la pena Qua faccio in casa Perfetto Ok Questa è un sacco di cibo ovviamente Un sacco di pera, no, non è via Ok 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 Quando questa è fatta andiamo avanti Ok 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 gli altri possono stare qui energia 400 ok da prendere queste ok e poi ci siamo ormai non mi sembrava che c'è l'appare non mi sembrava che sia l'appare non mi sembrava che c'è l'appare Atenzione, building completed. Atenzione, building completed. Anche in questo così. Bene, non riesco a mettere giù neanche io. Ok. Perfetto, basta tenere premuto e te lo metto da solo nel posto migliore. Ok. Dunque, questo. Questa non è... Ah no, è fuori dalle tessere tavole. Questo spiega tutto. Ok, perfetto. Non sono sette giorni ancora. Ok. Qui qua possono recuperare un po' di roba. Anche energia. Allora. Allora. Eh, forse qui si è proprio un posto sbagliato. Ok. Non so come mi servirà a farlo. Ok. Ok. Dono un'energia. Aspettiamo l'energia. Allora. Qua io volevo fare quello ma non ho fatto in tempo. Cioè, a farlo prima di iniziare a fare qualcos'altro. Peschiamo ovunque sul lago. Forse posso pescare solo qui, appunto. Esatto. Allora. Nuova query. E anche qui a posto. Questa la piazziamo qua. Andiamo a fare... Questa la piazziamo qua. Uncima. Eh, ho bisogno di sufficiente. Ok, mi sta laggando tutto Non so se è il PC che non è più in grado di reggere tutto quanto Metto un attimo in pausa Ok Ancora delle cose normali, delle tendere Sì, ancora Manca l'energia, abbiamo il cibo ora Ok Noi costruito la casa, ma la via non stessa. Penso che dovrò comunque cambiare il pc a breve ragazzi, perché mi lagga e non dovrebbe la bere. Comunque sono un po' indeciso perché questa missione è risultata decisamente semplice, adesso siamo qua praticamente a costruire senza nemici, non so se è il caso di passare le difficoltà, già a una difficoltà superiore, però voglio avere i... come si dice, non si vuole. Voglio avere i soldati. C'è l'altro, la cosa forte di questo è che puoi metterne anche a distanza zero. Ok. 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 Questa è la sua vita Questa è la sua vita Dicami cosa matare Questo è meglio di essere bene Dio, proprio morto Tu hai ridere la mia mente Oh, qui andiamo ancora La mia rifle è pronta Dicami il tuo dottor, dottor. Prego di matare qualcosa. In questo punto... C'è poco da fare. Un sacco di cibo. Dovrei continuare a fare queste. Aspettiamo che finisca... Che arrivi il tutto. Costruisco Wasp... A caso. Abbiamo il secondo strato di Wasp. Manca il ferro. Devo abituarmi a mettere questo qua sul 2. Così dovunque sono, schiaccio 2 e compro il ferro. Dottor. Dottor. Bene... la pietra... e compro il ferro... Vendo, vendo, vendo... vendo, vendo, vendo... vendo, 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 vendo... Spazio la strazione. Il sniper è pronto. Mi? Ancora Beh, questa reposta non è che sono grandi queste M Ma, lethul Il mio rifle è pronto L'ultima notte ho dimenticato i cervelli che si esplodono Sì Sì, dimmi cosa uccidere M E poi non so quale sia Però militare, dovunque sono Guarda che sono qui Schiaccio M, non succede niente Vengo a fare il V o M Ok Con proprio ferro Vendi la pietra Non riesco neanche a stare indietro Guardate quanto legno produciamo e potrei prenderne molto di più Cioè, questa mappa è davvero una produzione assurda Il lago gelato Non riesco neanche a venderlo tutto sto coso Ok, compro, 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 compro Comunque costa Che attacca in tutte le parti Allora F2 Allora F2 Dovunque siate Old position Deselezione tutto Non voglio usare Non voglio usare Da questa parte non so da che parte attacchino Ah, secondo me potremmo avere problemi Forse qui Nel senso che Però ora ho un sacco di truffe Che si sfondano queste Secondo me non succede niente Qua dovrebbe andare bene Qua dovrebbe andare bene No, non mi aspetto problemi, dai Sono fiducioso Cioè, sti numeri non hanno senso Adesso costruisco dove vedo che siamo più in difficoltà Quindi non ho spinguto niente Che qua sono tanti Vanno tutti verso nord E ignorano completamente la parte a sud Idem qui Però almeno lavora pure questa e questa No, qua non ci sono problemi di sorta Proprio zero, funziona tutto bene Anche qua attaccano tutti in un punto, ma Per ora va bene Ok, qua sono... Non sono già più uniti, cioè Ok, va bene Nord a posto Qua hanno sfondato un pochino, ma Hanno perso, diciamo L'input iniziale No, non c'è bisogno di fare niente, ragazzi Certo, facciamo così Questi li spostiamo qui Le truppe che ho qui Le andiamo a spostare qua Le truppe che ho qui Sparano tutte Qua sono perfette Diciamo che attaccano In un punto Dove non potevo comunque mettere questo Perché c'è La miniera Che abbiamo vinto Top, missione completata Ok, chiudi Wasp Le torrette Laser Lancia fulmini Cecchini Oh Finalmente andiamo da Cletus E' un sacco che non andiamo da Cletus Questa la Andiamo a posizionare qui Al 100% E... La prossima missione sarà la centrale elettrica Hydra High Hydra Ok, perfetto, dai Ci fermiamo qua Ci vediamo nel prossimo episodio Che sarà appunto Una missione tattica Dopo tanto tempo Poi Non penso che vorrò fare mai nella vita Il nido delle arpie Queste qua Dipende quanti ne arrivano Perché Ehm... Cioè se ne arrivano di più Ma con una frequenza uguale a quelli che erano qui Non è un problema Parle Però penso che Farò magari O l'Oasi O le terre basse Adesso che ho pure il ferro Come prossima tecnica Non so se voglio questo Perché aumenta il petrolio Non me ne frega nulla Altro oro Quello si Quello potrebbe essere utile Ma appunto adesso Potrei sbloccare il soldato Quindi potremmo iniziare a fare soldati Soldati e cecchini Come combinazione di truppe Piuttosto che Ehm... Piuttosto che Ranger e cecchini Quindi Prostanzialmente i ranger Non li facciamo più Sì dai va bene E poi facciamo questa Sto pensando se fare questo o questo Non lo so Dai ci vediamo sotto nei commenti Ragazzi Vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace Se il video vi fosse piaciuto Ehm... Potrei tentare di alzare la difficoltà Ma... Non... Non voglio farlo in questa missione Perché secondo me già morerò più di una volta Preparatevi a... Qualcosa di brutto Ehm... Invece nelle mappe normali Potrei alzare la difficoltà Brutale magari Non lo so Non vorrei sembrare troppo confidente Ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi GG a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti